Buongiorno, sono l'ingegnere Marzola della Bovema Italia, amministratore. Abbiamo deciso di partecipare al foro nel 2011 pensando a un evento tecnico. La Bovema produce sistemi di sicurezza e di ventilazione e la parte tecnica di ingegneria è quella che più sostiene da tempo. I prodotti che abbiamo portato oggi in fiera sono le barriere al fuoco e al fumo mobili, evacuatori di fumo e calore naturali e meccanici. Abbiamo diversi altri prodotti e sistemi che produciamo. Ripeto, quello che ci ha interessato è l'evento tecnico curato per i progettisti ai quali Bovema si rivolge. Grazie a tutti.